Io sono da parte perché è cresciata la registrazione Ho preso io il postore e la facciamo l'ultima perché non ho cresciata Allora Io spero di vingere Sono il postore, voglio vingere Allora io ho vinto qui e io ho scoperto qui Oh no Io ho scoperto qui e qualcuno è simile Vado la boba 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 New panda Vado la boba Vado la boba Vado la boba Vado la boba Se è piaciuto Vi ricordo di lasciare un like se vi è nel canale e anzi per la campanellina per rimanere sempre aggiornati Faccio Allora In questi giorni facciamo un video alla settimana Facciamo così Un video alla settimana Ok raga Aspettiamo Among Us Noi ci vediamo come sempre a un prossimo video Bella raga Grazie a tutti Grazie a tutti